E così a forza di andare in avanti l'Udinese becca un contropiede di Serena che dà ad Altobelli la palla di un gol che i tifosi aspettano da quattro mesi. Sbagliare è umano ma perseverare è diabolico. All'inizio della ripresa l'Udinese cade ancora nel trabocchetto. Stavolta è Serena a sfuggire alla difesa bianconiera un po' in difficoltà su tutto il fronte.